Musica Incidente in via Busano all'altezza del civico 13, oggi, giovedì 7 dicembre, poco prima delle 17.30. Un 53enne di Busano era sul trattore con un amico quando è scivolato a terra. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze della Croce Bianca del Canavese e della Croce Rossa di Castellamonte, i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e i carabinieri. Il 53enne, subito soccorso, è stato intubato e trasportato dalla Croce Rossa di Castellamonte all'ospedale San Giovanni Bosco, in gravi condizioni. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. La terra qua, è un posto cultivo. Devo andare a casa a prendere le chiote, ma non penso che arrivi. In quest'ora sarei qui. Vediamo se c'è l'Ari. No, le ricordo a casa. Grazie. Grazie.